crutch mindset benvenuti cari amici del canale dampat rugby mercoledì no scusate martedì martedì 19 martedì 19 aprile e oggi di pomeriggio ormai sono sfasatissimo con gli orari non riesco a mantenere un orario non ce la faccio non riesco ad avere un giorno dove metto i video sempre alla stessa ora vi ho anche chiesto a che ora vi piace di più averli qualcuno mi ha detto la mattina qualcuno mi ha detto che fa da mangiare ascoltando i miei video qualcuno mi ha detto che preferisce la sera ho dato un'occhiata all'analytics ero lì che mi stavo organizzando tutta la strategia morale della favola li metto quando capita perché non c'è altra maniera allora fine settimana con tanto tanto rugby ieri ci siamo distratti un attimo dal rugby a 15 per parlare del rugby a 7 sto organizzando la live con con ottavio può essere che ci riusciremo può essere che no se non ci riusci se ci riusciremo parleremo lì della champions cup se non ci riusciremo fare un video apposta per parlare un po della situazione del quadro della champions cup magari facendo il bracket andando a vedere chi potrebbe vincere champions e challenge e allora oggi come al solito la mattina mi sveglio con un'idea e poi mi arriva l'illuminazione l'illuminazione e poi mi arriva un click che mi fa scattare qualcosa e dico no oggi parlo di un'altra cosa e e oggi è arrivato il momento è arrivato il momento che tu ti aspettavate oggi parliamo di Sergio Paris oggi parliamo eh sì tanto lo sapevate già perché ovviamente io adesso faccio tutta sta scenetta però quando metto il titolo ci sarà il faccione il pelatone del nostro ex capitano della nazionale italiana e mi è venuta l'idea perché perché ho visto un video eh devo veramente fare i complimenti glielo ho già fatto in privato a otto al mitico nostro coach eh a ottavio arenella perché il suo canale youtube sta veramente eh esplodendo volando e con una cosa secondo me molto molto bella è molto bravo otto perché riesce se non lo conoscete andate a cercarlo lo trovate basta che scrivete ottavio arenella comunque io poi metterò in link eh il il metterò in link il link del video dove poi trovate il canale e iscrivetevi questa volta ve lo chiedo al suo al mio anche se non l'avete ancora fatto ma anche al suo e e e lui che cosa fa fa sta facendo in questi ultimi giorni una cosa molto molto bella secondo me ossia sta prendendo le prestazioni individuali di alcuni giocatori interessanti e la cosa che mi piace molto di otto è che non sono degli highlights ossia non non sono le migliori azioni ma viene proprio eh vivi sezionato eh tutto sezionato vive sezionato quando sono vivi no no non l'italia pezzetti vivi no viene proprio sezionato tutto il ehm il video tutta la prestazione di questi giocatori per far vedere le cose buone e le cose cattive e allora ne ha fatto uno su Paris sulla partita col Benettoni e allora io mi son detto ma si parla sempre di Paris Paris sì Paris no Paris in nazionale Paris rifiuta cosa ha fatto Paris chi è stato Paris 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 e allora ho detto andiamo a vedere che tipo di giocatore è oggi non ieri non l'altro ieri non domani oggi l'ultima partita di Sergio Paris e e vediamo che ci sono delle cose molto molto interessanti allora i video di otto sono senza voce quindi ci metto la mia ok quindi andiamo e vi faccio io al commento della prestazione individuale di Sergio Paris in maglia stavo per dire maglia Benetton no in maglia Tolone contro la sua ex squadra del Benetton previso e allora andiamo a dare un'occhiata a questo video qui perché veramente veramente interessante via qui ripeto ci sono tutte le azioni di Paris della partita contro il Benetton contro il Benetton rugby treviso allora la prima tutte tutte quindi anche i sostegni eccetera eccetera ad esempio il lavoro che fa Paris non è solamente un lavoro da ball carrier non è solamente un lavoro col pallone in mano nonostante ovviamente Paris sia una scelta eh interessante come eh primo ricevitore per le sue per la sua manualità e la sua intelligenza però vediamo come qui lavora anche in sostegno qui ce ne sono tante eh quindi adesso ci soffermeremo magari sulle milioni in difesa in placaggio solido è comunque affidabile vedete Paris è un giocatore secondo me sempre pensante qui abbiamo visto tre azioni difensive sue guardate qua come ad esempio torno indietro un attimo come qui dove non serve entrare qui dove serve entrare entra no dove invece non serve come qui guardate come non entra come un pazzo eh su questo placaggio su ehm chi era qua che attaccava credo che fosse negri può essere ma una volta che ha capito che viene portato a terra esce si porta fuori scala fa muovere i compagni e allora cosa succede che può rientrare anche nell'altro placaggio però anche qui resta in piedi ripeto Paris è un giocatore secondo me pensante che pensa sempre in tutte le cose che fa Tolone ci ha dominato in rimessa laterale e poi una chiamata sicuramente eh sua tra l'altro che eh credo che sia eh assolutamente il leader della rimessa laterale di di Tolone quindi c'è una rimessa laterale a cinque metri siamo al minuto sei eh Tolone decide di andare con tre giocatori e in fondo fondo touche Paris scelta pericolosa volendo no? Vedete come Treviso invece eh aveva ancora dei giocatori che stavano tornando qui non si era organizzata in maniera molto molto pronta via palla in fondo touche presa attaccato non ha paura di andare ad attaccare non guadagna la linea del vantaggio in maniera incredibile eh però fa tante tante altre cose il passaggio dietro no? Il pull pass questa è una delle ragioni per cui Paris viene utilizzato molto spesso come first receiver di nuovo in sostegno vedete l'attenzione nelle cose c'è sarà qualche errore eh ma pochi 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 e qua inizia il lavoro aspetta torna un attimo indietro perché voglio farvi vedere una cosa e qua inizia il lavoro eh in mall che farà per tutta la partita e da questa serie di immagini si vede molto allora innanzitutto Paris viene spesso utilizzato come ricevitore e quindi la coda della mall con varie opzioni di gioco perché avendo un giocatore con le mani come Paris sappiamo benissimo che si può o infilare dietro la mall e condurla molto molto bene o girarsi e dare quindi un passaggio in questo caso viene imbragato da previso la lotta con ruzza e con Ernst e lui riesce comunque a tirare fuori il pallone poi qua forse una delle cose più belle eh fissa e passa ma la velocità ecco questa è tutta la manualità del gioco di Sergio Paris pa mano veloce e via e si apre il corridoio eccolo qua ce lo fanno anche rivedere e poi di nuovo in mall lo vediamo qui qui dietro la mall pensa guarda dove mi posso andare a infilare si va a infilare tra due giocatori benetron per rompere quella connessione mette la testa in mezzo prova a mettere la testa in mezzo riesce a rompere quella connessione tante piccole cose che però l'esperienza ti aiuta a conoscere mentre magari un giocatore più giovane potrebbe magari andare lì a sbattere con la testa guardando per terra e spingendo Paris pensa pensa Paris in questa partita è stata molto indicativa e poi sa fare anche altre cose ripartenza da dietro ripartenza su calcio e guardate qui come fa a vedere il pallone poi riesce a battere nell'uno contro uno il diretto avversario pallone chiuso lo mostro lo chiudo e bam vado dentro e intanto assorbo quattro giocatori il lavoro di nuovo in mall guardate anche questa anche questa è molto indicativa andiamo a rivederla è importante il lavoro in mall che ha fatto Paris e Treviso ha sofferto molto rimessa laterale mall allora la chiamata la ricevuta va a fare il primo appoggio però poi non resta lì come un mulo a spingere basta intanto sta già pensando cosa fare e allora guardate qua esce esce Paris dalla mall va dietro all'inerzia inizia a spingere prende lui il pallone fino al provare ad andare in meta poi Treviso riesce a tenerla su di nuovo in sostegno salta l'uomo lavora di nuovo primo ricevitore vedete come Tolone lo utilizza spesso come primo ricevitore e qui c'è l'altra opzione la prima opzione prendere mettere giù la testa e spingere l'altra opzione è girarsi e fare questo lavoro no il sostegno qui Ottavio le mette tutte molto molto bello di nuovo primo ricevitore perché perché un giocatore che comunque il contatto non perde il pallone e può guadagnare la linea del vantaggio comunque non perderla e avrà l'opzione di avere delle delle mani per passare sotto qui vede che non c'è e allora cambia la linea di corse si mette dentro non fa tantissima strada però comunque garantisce un punto d'incontro di nuovo in sostegno qua un po un po stanco arriva un po un po tardi forse lì forse di nuovo il lavoro in molle qui è stato imbragato e allora però lui che cosa fa perché uno dirà questo è un errore però occhio perché è stato imbragato sì gli soffiano il pallone però riesce comunque a portare il pallone dietro a metterlo a disposizione è importante il lavoro che ha fatto paris in molle qui di nuovo primo ricevitore non si tira indietro uno dice a 38 anni magari si nasconderà un po di più no 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 a tolone se gli fanno fare 80 minuti è perché non si nasconde un conto è nascondersi un altro utilizzare l'intelligenza il lavoro di timoniere della mischia utilizzando i piedi e questo anche si è una cosa che si affina con anni di esperienza e dopo ne vedremo una molto molto più interessante qua recupera la palla direttamente dalla mischia su una situazione di vantaggio probabilmente sa che sta giocando in vantaggio allora si prende un rischio in più intanto qua vediamo anche come Facundo Isa stia tenendo dietro tenendo dentro Eropst e allora il classico no look ah qua sì che guarda un po' dai però il classico la classica giocata 8-9 che in questo caso finisce per Tega però si giocava su un vantaggio e poi di nuovo il lavoro in moll e in rimessa laterale vedete come sia spesso lui a uscire a sfilarsi dalla moll per andare a gestirla invece di essere tutti li spingiamo tutti in avanti anche qui si sfila va dietro e lui che comanda le operazioni va a prendere il pallone guardate è sempre lì che guarda bella questa inquadratura che ci ha regalato Ottavio lavorando sugli highlights veramente veramente bella sulle immagini della partita e di nuovo lui che si sposta va verso la destra apre lo spazio per il giocatore che esce interessantissimo il lavoro di Paris Saint-Moll tentativo di contro racco di nuovo presente solido in difesa le chiamate la leadership qua a fondo moll ah questa è molto molto bella guardate abbiamo parlato del lavoro in moll guardate questa eh anzi rimandiamola un attimo indietro ok via guardate questa c'è una moll Paris Saint-Moll non entra eh sta lì fa la guardia guarda gestisce e poi guardate il momento in cui entra e perché il momento in cui capisce che può prendere l'inerzia e guardate cosa succede appena entra eh subito dietro questa non è la spinta in se stesso ma è capire l'inerzia gli equilibri i movimenti e poi ancora eh e poi cosa fa quello che abbiamo detto prima guardate eh esce cambia va dall'altra parte dice aspetta che devo andare di là e posso andare a imbragare va a imbragare chiude e la ehm ed è ed è palla persa per il Benetton qua c'è un placaggio sbagliato contro Rino Smith però Rino Smith è veramente alle volte un furetto adesso lo vediamo Rino Smith l'umanità terra e lì dice ah c'ho 38 anni vabbè dai di nuovo il lavoro in moll guardate anche qui come invece di mettere la testa sotto capisce che lì si può andare a strappare guardate 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 questa moll che sembrava per essere imbragata arriva e dice cosa faccio mi metto e spingo come un matto no 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 questa la devo portare fuori è pazzesco il lavoro in moll che ha fatto Sergio Paris il sostegno la difesa di nuovo vedete come sui placaggi spesso e volentieri non finisce per terra e ovviamente questo eh perché legge le situazioni questo mantiene sempre un giocatore in più in piedi per il Tolone il lavoro qua di pulizia di nuovo guardate qua di nuovo non finisce per terra uno dirà ok non finisce il placaggio però il placaggio era già finito il giocatore di Treviso era già terra e qui lui sempre sa quando togliersi per accentuare il potenziale ceiling off guardate qua si toglie andiamo indietro un attimo guardate qua oh si toglie poi Treviso è brava perché non finisce per terra però ovviamente questa è una cosa che può accentuare il ceiling off altra portata pallone conservato altro lavoro in moll guardate come sta fuori per osservare che cosa faccio che cosa non faccio e poi decido io quando entrare nella moll ma continuo a guardare è assolutamente lui il capo della moll assolutamente lui presa alta questa buona altre meno altro attacco alla linea non si risparmia sull'attacco alla linea guardate qua come combatte come combatte sul sul contatto ecco qua si che c'è un errore ah bravo Montioane bella la pressione di nuovo il lavoro in moll questa volta è dentro è dentro ma anche lì guardate come è lui che riesce in quel momento a a a dividere la moll guardate a dividere la moll e farla partire è pazzesco il lavoro in moll se voi vi mettete lì ad analizzare le moll e guardate il lavoro di parisse è pazzesco all'idea del fatto che le moll sono un mondo che andrebbe studiato molto di più di quello che viene fatto perché ci sono delle delle dinamiche e ci sono dei giocatori appunto come non so mi viene in mente i toge o parisse eccetera che sono incredibili nella moll primo ricevitore parla passata dietro sostegno lotta aerea altra moll altra moll che riesce a trovare l'inerzia e l'avanzamento e poi il lavoro di tenere il pallone dentro la mischia guardate il lavoro di timoniere della mischia chiusa e di lavorare coi piedi guardate qua è come salva questo pallone che era praticamente ormai uscito ops guardate eh lo prende con il tacco e lo riporta dentro e questo il pallone qua non è uscito quindi anche legale o ai limiti diciamo del regolamento comunque è bellissima questa azione queste sono le piccole cose che magari non si vedono lo riporta dentro e quindi dà la possibilità a tolone di prendere questo avanzamento e il vantaggio guardate ops portato dentro tolone prende l'avanzamento e il vantaggio poi l'uscita e apre il gioco e va a fare il primo sostegno però c'era un vantaggio precedente vantaggio precedente quel calcio di punizione in mischia lo prende lui perché? perché sì lo prendono le prime linee il lavoro che fanno le prime linee però poi è lui che mantiene quel pallone dentro la mischia ok? e qui perché sennò il pallone sarebbe uscito e quindi gioco aperto e invece lui è bravissimo a tenerlo dentro eh avanti ah questo ecco questo ad esempio è un fallo però qui eh l'avevo visto anche in partita Alessandrino Garbisi eh il 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 futuro e il presente gli dice dai dai li vado li vado a dare una lezioncina io al ragazzino qua l'arbitro l'arbitro qua sbaglia perché non non vede un fuorigioco abbastanza grosso se lo andiamo a rivedere dietro ce ne renderemo conto eccolo qua eccolo qua arriva Garbisi ah guardate qua Garbisi praticamente non ha ancora le mani sul pallone o comunque sicuramente non l'ha ancora alzato e guardate dove è Parise però gli dice vabbè dai facciamo scaldiamo un po' il ragazzino anche perché un Parise che oh 38 anni se ne potrebbe stare lì tranquillo nella linea ad aspettare a ordinare il gioco però è un giocatore pensante ed è un giocatore che quindi dice nel suo ragionamento probabilmente qui la palla eh stava per uscire lo aveva anticipato o forse veramente voleva andare a dare un po' per qualsiasi ragione un colpo al mediano di Mischi eccetera eccetera però non è un giocatore scontato non è un giocatore banale e quello fa bam e poi qua a fine partita qua siamo ragazzi qua siamo adesso potete dire di Parise quello che volete lo so che divide un po' Parise poi ne parliamo però qua siamo al 78esimo lui ha 38 anni si è giocato tutta la partita tutta la partita guardate ormai la partita è vinta dal Tolone manca un minuto e mezzo guardate come sbraccia il contatto a cercare quel mezzo centimetro in più guardate eh questa è l'immagine simbolo di Parise secondo me guardatelo qua guardate come sbraccia guardate 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 come nuota guardate come nuota per cercare quel quel centimetro in più e beh non è un caso se stiamo parlando e questo credo che non lo possa mettere in discussione praticamente nessuno del più forte giocatore italiano di rugby di sempre paf palla presentata e poi la grinta qua maledetto maledetto da tifoso Benetton lo dico da tifoso Benetton lo dico allora grandissimo grandissimo Ottavio grande grande Parise grande Ottavio perché questi video andateveli a vedere ce ne sono su Capozzo ce ne sono su Capozzo infatti mi è partito qualcosa aspetta aspetta aspettate che mi è partita una voce vediamo se riesco a toglierlo questo boh chiuso ok perfetto ci sono dei video con le performance di Capozzo ce ne è uno molto bello di Menoncello molto bello di Menoncello andatevelo a vedere anzi magari confrontandolo io volevo fare la reazione a quello però poi ho detto diventa troppo lungo andatevelo a vedere voi veramente molto molto bello vi fa vedere veramente il futuro adesso abbiamo visto il passato non lo so e se vi guardate il video di Menoncello quindi vedete il futuro quindi complimenti a Ottavio allora per quello che riguarda il discorso Paris ne parleremo perché secondo me prima delle prossime convocazioni del nazionale arriverà di nuovo tutto il bailam eccetera eccetera io dico la mia il più grande giocatore italiano di rugby di sempre punto numero uno punto numero due un giocatore che divide probabilmente ha diviso qualcosa anche dentro lo spogliatoio anche se poi bisognerebbe essere lì per capire veramente veramente le dinamiche però un giocatore che è sempre stato riconosciuto leader e capitano dovunque sia andato un giocatore che sicuramente di carattere sicuramente ingombrante ma anche perché un giocatore che ha molta self confidence ha molta autostima di se stesso e probabilmente questa è una delle caratteristiche che l'ha portato a essere un grande grande grandissimo campione a me viene in mente un'altra grandissima atleta italiana che divide molto proprio per il suo carattere che ha sempre diviso molto proprio per il suo carattere Federica Pellegrini ricordo dopo Londra nel 2012 quando si disse ormai è finita si è appena ritirata siamo nel 2022 sono passati altri dieci anni ecco comparisse un po' un po' così ormai già da un bel po' di anni che si dice si ritirerà si ritirerà si ritirerà chi lo sa io lancio una sfida lancio un appello io dico la mia non mi è piaciuto ne abbiamo già parlato non mi è piaciuto moltissimo quello che è successo con l'ultima tra virgolette con l'ultimo rifiuto della convocazione con la nazionale per vari motivi che ho già spiegato detto questo detto questo lancio una sfida se Kieran Crowley lo considera utile alla causa della nazionale italiana bene convocate Paris per il raduno tutto che vada a sporcarsi le mani tra virgolette non è che ha bisogno di dimostrare niente però che vada a sporcarsi le mani nelle partite contro Georgia e Romania non è che deve sapere il Blacks contro Georgia e Romania e poi se le cose vanno bene chi l'avrebbe mai detto dopo la partita dell'ultimo mondiale che saremmo stati a un anno e mezzo dal mondiale a parlare di una possibilità Paris e perché no finire al mondiale perché no se magari potesse trovare quel suo ruolo all'interno della nazionale italiana o vederlo all'ottantesimo minuto così è tanta roba dal punto di vista fisico atletico c'è adesso ovviamente più gli anni vanno avanti più le cose cambiano velocemente però ormai siamo ormai siamo a un anno e qualche mese dal mondiale mai dire mai mai dire mai per il resto spero che vi sia piaciuto questo video commentate qua sotto cosa ne pensate di Paris del caso Paris di tutto quello che concerne il tema Paris immagino che si scatenerà il dibattito perché è sempre un tema molto molto caldo per il resto io fischio finale un bacio grandissimo andatevi a iscrivervi al canale di 8 e ci vediamo domani qui per un altro video domani rassegna stampa se non cambio idea nella notte domani rassegna stampa